Nessun giallo. Negli accordi per far nascere questo governo c'era esattamente l'eliminazione del limu sulla prima casa e sui terreni agricoli e la restituzione di quella pagata nel 2012. E se non ci fosse stato questo accordo, il governo non sarebbe nato. Non è l'unico punto, perché c'era anche l'eliminazione dell'IVA, dell'aumento IVA di luglio, le politiche per i giovani, la riforma di Equitalia, la riforma della giustizia, la riforma fiscale, la riforma costituzionale, tutti i punti che fanno parte integrante del programma di governo del Presidente Letta. Non si può il giorno dopo la fiducia rimettere in discussione il punto fondante, che è quello dell'eliminazione fin dal 2013, quindi fin da giugno, dalla rata di giugno del limu, e la sua restituzione per quanto riguarda quella pagata nel 2012. Ci si chiede, e le coperture? Le coperture, noi le abbiamo indicate ovviamente nei nostri disegni di legge, e le ripeto, per quanto riguarda la cancellazione, le coperture vengono da giochi, tabacchi, alcolici, vale a dire dall'aumento delle accise su queste fonti di reddito. Per quanto riguarda la restituzione, l'accordo con la Svizzera, anticipato dalla Cassa Depositi e Prestiti. Se però il governo ha coperture migliori, lo dica. Noi abbiamo indicato queste e che sono state testate, valutate e validate anche a livello internazionale. Se il governo ne ha delle migliori prontissime a valutarle, dico solo che i patti non si mettono in discussione. Ripeto, se c'è la cancellazione del limu dal 2013 e la sua restituzione, la restituzione di quella pagata nel 2012, c'è il governo Letta. Se non c'è questo, non c'è il governo Letta. Però il Presidente del Consiglio Letta è in aula.